Ciao da Avsim! Salviamo il soldato Weston, verrebbe quasi da dire. Il povero Weston McKennie che è stato accusato di qualunque cosa nel giro di qualche ora, di mezza giornata, per poi scoprire che quello che lui aveva fatto in violazione del protocollo Covid della Federazione degli Stati Uniti, quindi della sua squadra, della sua nazionale di calcio, era sostanzialmente una violazione davvero insignificante. Cioè scendendo dal pullman in cui viaggiava la squadra, senza mascherina, era andato a firmare degli autografi. Cosa non grave, nel senso che non era un comportamento che abbia messo a rischio chissà quanto la salute sua e degli altri, anche perché dalle immagini che abbiamo visto, che sono circolate su Twitter, i tifosi statunitensi che hanno ricevuto gli autografi da Weston McKennie erano abbastanza a distanza, ma soprattutto avevano la mascherina, però se il regolamento, il protocollo interno della Federazione detta queste regole e quindi dice che i giocatori non devono andare a firmare gli autografi, si tratta comunque di una violazione. La sanzione prevista dalla Federazione non è stata quella della multa, ma è stata quella della sospensione, per cui McKennie non è stato a disposizione per la partita degli Stati Uniti contro il Canada. E già sulle prime il CT aveva lasciato intendere che non ci sarebbe stato neanche per la partita contro Honduras o che ci sarebbe stato il rischio comunque di un protrarsi di questa esclusione. Abbiamo appreso nelle ultime ore che effettivamente il CT ha confermato la sospensione per McKennie, che quindi non essendo a disposizione degli Stati Uniti per la partita contro Honduras, rientrerà immediatamente a Torino. Sta già rientrando, diciamo che rientra oggi questo 7 settembre, che è anche il giorno in cui torna Allegri, quindi magari Allegri invece di trovare 5 giocatori effettivi ne trova 6 con McKennie, anche se poi c'è il nodo della quarantena. Ecco, tra l'altro sulla quarantena c'è tutto il discorso di Brasile-Argentina, ma ve ne parlo a parte. Qui invece concentriamoci su quelle che sono state le reazioni da parte del tifo bianconero e da parte del giornalismo nei confronti di Weston McKennie. Per questo dicevo salvate il soldato McKennie, perché davvero è stato vittima di un fuoco incrociato per questa violazione, anzi non tanto per la violazione, ma per la sanzione. Cioè in Italia si è appreso che McKennie era stato sospeso e di conseguenza si è immaginato che si fosse trattato di una violazione grave. Si è attribuito a McKennie di aver tenuto un comportamento assolutamente fuori dagli schemi, sopra le righe. Questo perché si è tratto dalla storia recente di McKennie un'immagine di lui negativa. McKennie è quello che non fa bene la dieta perché ogni tanto mangia cioccolata, questo è quello che si sente dire. McKennie non è abbastanza professionale, quindi da questo punto di vista. McKennie che già ha avuto delle intemperanze, il festino con Dybala e Artur in violazione delle norme anti-covid stabilite a livello nazionale, non tanto del protocollo interno della squadra, con tanto di sanzione da parte della Juventus, sono stati esclusi per una partita. I giocatori hanno ricevuto anche la multa. E quindi McKennie, un giocatore dalle frequenti intemperanze, un giocatore non da Juve, un giocatore che non ha lo stile, un giocatore che anzi se deve andare perché non può stare alla Juventus se ha questi comportamenti. È scattato insomma subito il moralismo. Moralismo che però, come molti ismi, è un'estremizzazione, è un punto di vista, è una posizione che non aiuta nel dialogo, nel confronto. È una posizione estremizzata che porta semplicemente a vedere le cose in maniera distorta. Ed infatti McKennie è stato, ripeto, accusato di qualunque cosa e si è detta qualunque cosa in queste ore su McKennie e lo si è etichettato in maniera fortemente negativa sulla base di questa sanzione senza sapere poi che cosa realmente fosse accaduto. Infatti non vi ho parlato immediatamente, frettolosamente, freneticamente di questo argomento. Ho aspettato che tutti quanti i tasselli si mettessero a posto, che la questione venisse un po' più definita, che divenisse un po' più chiara. Ho scritto semplicemente una riflessione aperta sul mio blog, absim.video, link in descrizione se vi va di leggerla. Ogni tanto butto giù qualche breve riflessione e in questo caso ho scritto semplicemente mi astengo da qualunque giudizio perché in quel momento, cioè nella mattinata di ieri 6 settembre, si sapeva solo che McKennie era stato sospeso, d'altra parte l'aveva detto lui stesso con una storia Instagram chiedendo anche scusa per il suo comportamento, ma non si sapeva che cosa avesse realmente fatto. Quindi andare ad accusare McKennie, andarlo a giudicare, era chiaramente prematuro perché come avevo scritto sul blog si sarebbe potuto trattare anche di una violazione formalistica ma sostanzialmente irrilevante, che non metteva a repentaglio la salute di nessuno ed infatti casualmente è stato proprio così. Cioè McKennie ha fatto una cosa che due anni fa sarebbe stata non normale, di più, normalissima. Nessuno avrebbe mai pensato di dire nessuna cosa ad un giocatore che va a firmare degli autografi anzi sarebbe stato accolto come un giocatore disponibile nei confronti dei tifosi. Ma d'altra parte che cosa abbiamo visto quest'estate con i giocatori della Juventus che sono arrivati alla continassa vecchi e nuovi? Abbiamo visto assembramenti di tifosi della Juventus prevalentemente dotati di mascherina ma comunque all'aperto con comunque un controllo di sicurezza davanti al J-Medical in particolare e giocatori con la mascherina firmare autografi su qualunque tipo di gadget. Quindi non è una cosa che non si può fare, è una cosa che per qualche regolamento secondario per qualche regolamento specifico come quello della federazione USA è preferibile non si faccia, anzi è proprio vietata per una questione di tutela del gruppo squadra cioè ognuno poi si regola come vuole ma non c'è una violazione assoluta cioè McKenney non ha fatto nulla di assolutamente grave, ha fatto una cosa assolutamente innocua invece che poi viene magari attaccato ancora nonostante si sia saputo qual era l'oggetto della violazione dai tifosi della Juventus, da alcuni tifosi della Juventus perché è andato a firmare gli autografi violando il protocollo è ancora più incoerente se si pensa che qualche mese fa Dybala era stato attaccato a Torino perché dentro la sua Lamborghini si era rifiutato di firmare autografi ad un tifoso che gli richiedeva che forse l'ha fatto apposta perché è difficile vedere uno che fa un video nel momento in cui cerca di chiedere autografi ad un giocatore e poi lo pubblica dicendo ecco avete visto mi ha rifiutato l'autografo Dybala rifiutando l'autografo ad un singolo tifoso per rispettare il protocollo quindi quando Dybala non firma gli autografi per rispettare il protocollo è una pessima persona quando McKenney non rispetta il protocollo per firmare autografi è pure lui una pessima persona magari non sono le stesse persone che hanno detto l'una e l'altra cosa però c'è una grossa incoerenza di fondo il problema se vogliamo parlare realmente dal punto di vista di Juventino è proprio dicevo il moralismo bisogna attendere la definizione dei fatti bisogna conoscere i fatti prima di giudicare nell'ignoranza dei fatti sono solo giudizi sommari e giudizi sommari non portano da nessuna parte ripeto portano a svilire il dibattito portano a impoverire il nostro confronto quindi prendiamo il caso McKenney come un caso che faccia a scuola che ci insegni qualcosa cosa ci deve insegnare? di essere pazienti di aspettare nessuno ci richiede necessariamente di esprimere un'opinione immediatamente si può anche attendere qualche ora nessuno ci punta qualcosa contro dicendo forza su di qualcosa e se qualcuno ci pressa per dire qualcosa forse siamo comunque già nella posizione sbagliata ed è meglio scrollarsi di dosso certi pesi perché invece bisogna parlare in maniera ponderata e questo lo dico a me stesso che anche io tante volte sono incappato nella frenesia lo dico a voi che siete utenti che animate tante community che state sui social e lo dico sommessamente anche ai giornalisti che pure loro frettolosamente paradossalmente proprio loro che dovrebbero essere quelli che parlano solo dopo aver acquisito tutti i fatti molto più di me molto più di voi pure loro frettolosamente anche in questo caso si sono cimentati si sono fiondati ad esprimere dei giudizi dei giudizi definitivi su meccani meccani non è degno di stare alla juve meccani deve capire che deve tenere certi comportamenti meccani di qui meccani di lì e dicevo il problema è il moralismo sia perché nessuno di noi è candido nessuno di noi è immune da critiche nessuno di noi si è astenuto sempre da violazioni di qualunque tipo di regola di comportamento cioè ognuno di noi qualche violazione l'ha commessa ma anche perché questo è un moralismo a targhi alterne e vi voglio citare altri due casi ora magari vi darò un po' fastidio su questo proprio perché il tifoso giuventino ha ma come i tifosi di qualunque squadra i suoi mostri sacri i suoi punti di riferimento e non li vuole abbandonare e guai a chi glieli tocca e se glieli metti in discussione si va un po' nel panico ecco il punto di riferimento quali sono in questo caso quali sono? Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli vi ricordate quando a gennaio o forse a febbraio Cristiano Ronaldo prese tutta la ciurma che aveva a Torino se ne andò a Courmayeur a sciare poi si disse aveva affittato un albergo solo per alberghi chiusi alberghi chiusi zona rossa non ci si poteva spostare di regione Ronaldo va con tutta la famiglia a sciare per due giorni perché era forse il compleanno di Georgina non ricordo bene comunque vanno violando le regole le restrizioni anti-covid vigenti in Italia in quel periodo e noi giuventini me compreso siamo stati pompieri ad andare a buttare acqua sul fuoco anch'io ho buttato acqua sul fuoco in quel caso ma dicendo cosa che sicuramente si trattava di una violazione ma che non era una violazione che metteva ecco seriamente a repentaglio la salute di chi che sia perché era una bolla che si era spostata cioè Ronaldo con tutto il suo entourage già conviventi nello stesso edificio nello stesso luogo si erano spostati per andare in un altro luogo altrettanto chiuso perché prenotato per intero solo per loro per andare a sciare è chiaro che se non hai i soldi se non sei Cristiano Ronaldo queste cose non le puoi fare cioè il comune mortale non le può fare quindi la cosa odiosa non è solo la violazione della regola che ha comportato il pagamento di una multa irrisoria ma è il fatto che tu lo puoi fare noi no e noi stiamo a guardare te che lo fai e questo non è giusto però che cosa dissero gli juventini guai a toccare Ronaldo prevalentemente anch'io guai a toccare Ronaldo perché Ronaldo non ha fatto niente di male state zitti voi tifosi delle altre squadre non c'è nessun caso Ronaldo e acqua sul fuoco quando Andrea Agnelli a Pasqua ha preso ed è andato a Forte dei Marmi si è detto alla sua seconda casa nella regione toscana pare si potesse fare c'erano ancora c'erano ancora delle restrizioni in vigore come ben ricordate per incontrare per incontrare Massimiliano Allegri e c'è stato quel meeting di Pasqua di cui tanto si è chiacchierato con Pirlo che poi disse no ma sono amici non c'è nulla non devo equivocare amore posso spiegarti tutto eccetera eccetera che invece si era già messa nero su bianco il ritorno di Massimiliano Allegri ecco in quel caso pure Andrea Agnelli violò probabilmente qualche restrizione anti-covid o qualche regola avete visto qualche juventino dire scusate mi pare che Agnelli abbia fatto una cosa che non si poteva fare no guai perché il presidente è purtroppo viene vissuto da una parte della tefoseria ancora come una divinità per cui guai chilo tocca guai chilo critica come ti permetti di criticare Andrea Agnelli come ti permetti di criticare Cristiano Ronaldo ecco queste posizioni preconcette sono sbagliate lasciatevelo dire e non perché ve lo dico io ma perché ve lo do come consiglio di esperienza poi andate incontro andate a sbattere andate a sbattere perché poi crolla il vostro castello di certezze e non riuscite più a confrontarvi con gli altri quindi abbandonate certi preconcetti certi assoluti e cercate di essere di relativizzare la violazione delle regole l'ha commessa Andrea Agnelli deve pagarne le conseguenze nel caso così come Cristiano Ronaldo così come Weston McKennie ma siccome noi non siamo in questo caso dei censori non siamo quelli che fanno rispettare le regole ma siamo semplicemente qui a confrontarci su quello che accade non abbiamo nessun potere è inutile che ci mettiamo a dire chi ha sbagliato paghi ed è ancor più inutile anzi è dannoso fare dei moralismi però io ripeto ho visto attacchi nei confronti di Weston McKennie così come attacchi nei confronti di Paolo Di Bala e di Arthur sempre insieme a McKennie per quel festino che non ho visto assolutamente nei confronti di Andrea Agnelli e di Cristiano Ronaldo su Agnelli e su Ronaldo si sono fatti i se i ma i però era una cosa si poteva andare alla seconda casa ma chi vuoi che abbia creato problemi non c'era nessun rischio sanitario di là invece si è andato a fare il giudizio opposto su Arthur Di Bala e su McKennie cioè eravamo tutti quanti dentro quella casa a vedere che cosa fosse realmente successo sapevamo tutti che cosa avevano fatto di male cioè la pretesa di sapere cose che non si sanno e di non sapere cose che invece si potrebbero immaginare negli altri casi per avere una posizione diversa assolutamente assolutamente incoerente quindi ripeto il moralismo fa male fa male a chi lo fa e fa fare anche brutte figure social come è successo nel caso McKennie di cose che sono state dette e poi sono state cancellate per evitare la brutta figura che però ormai era stata fatta e rimaneva e soprattutto non ci fa sembrare dei tifosi intelligenti non ci fa sembrare dei tifosi sereni dei tifosi onesti con noi stessi ci troviamo a dire una cosa e il contrario di quella cosa a seconda della situazione McKennie sostanzialmente non ha fatto assolutamente nulla di male bene è che torni anche prima visto che siamo decimati dalle assenze l'unica cosa che mi permetto di dire in chiusura McKennie è che comunque avrebbe dovuto fare attenzione perché tu hai fatto un viaggio oltreoceano con tutta questa situazione la quarantena devi giocare le partite rientri stremato rientri che non ce la fai stare in campo cerca di non violare neanche mezza regola fosse anche per una fesseria come questa perché comunque è uno spreco di tempo è uno spreco di energie ecco più che altro la furbizia il mio lamento nei confronti la mia lamentela nei confronti di McKennie è sulla scarsa furbizia non si è fatto tanto furbo in questa situazione per il resto non ho nulla da dargli contro non ho assolutamente nulla da dirgli e spero che presto arriverà il giorno in cui la Juve non venga più vissuta dai tifosi all'interno come una caserma dove vengono delle regole ferree la Juve credo che sia un'altra cosa e dovremmo anche un po' uscire da questi schemi e da questo discorso sullo stile Juve dall'essere censori dei comportamenti e dei costumi con questo moralismo che è veramente asfissiante grazie per la vostra attenzione e buon dibattito nei commenti sulla situazione McKennie su questo caso McKennie su quello che fu il comportamento di Agnelli e quello di Cristiano Ronaldo insomma su tutta questa vicenda e sul moralismo like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi per tanti vantaggi speciali tra cui le mie chat riservate sul server Discord link in descrizione ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie